Il territorio è un segnale forte per noi e brindere. Sì, la seconda edizione di Videobus si è allargata anche la compaggine organizzativa ma con noi passiamo ci siamo anche altri consorsi, in realtà quasi tutte le cantine del territorio sono coinvolti in questa esperienza. È un'esperienza nuova che vedrà protagonista la città di Merino, di Puglomare, altre aree della città culturali e quindi cerchiamo col vino di contaminare un po' tutto qua. Col vino, assieme al mare, assieme al territorio, assieme al territorio. Beh, visto che c'è anche il consorzio di Squinzano, quindi una sinergia con la provincia lecesa. Sì, assolutamente. Questo è stato estremamente il fatto che questo evento vuole essere protagonista e vuole far aiutare protagonisti di tutti i produttori, di lini, del territorio, della provincia, quindi anche noi, della regione. Noi cerchiamo di contaminare e di contaminarci noi. Grazie a tutti.